Ehi ragazzi proprio io sono qui in questo nuovissimo video per parlare di nuovo questo della Lazio Il primo della Lazio di questo mercato Mur Marusic Domani farà la revisione a me che è tutto fatto per Marusic Dallo stand, questo club Dove la Lazio? Allora, questo è passato il giorno a Lukaku Allora, allora Adam Marusic, Marusic Dallo stand della Lazio Spinto tutto a faccia per riferire i tuoi di Cristina Dest Cristina X Anche i gianti a giocare più alto Quindi 3-5-2 Sto ero in Zaglum E come i partitori amostradito.it Perché sono stati domani e si può girare le visite americhe In Pedaglia domani mattina alle 8 Dove neppure me l'ha incontrato per 4-5 anni L'Intestagene ha fatto 40 presenze, 5 gol e 6 assist E' stato l'interesse anche l'Irlanda e la Lazio E' stato più veloce Quindi L'unico d'ore che è la media non è male Perché quindi Anzi ci sono giocatori E quindi venderà Sicuramente venderà Patrick Patrick Che è un ringaggio Medievo Tutta pure la Lazio E anche troppo per Patrick Che ho detto Che ho messo con i nomi pro Non metterà Nel maggio di numero di euro di contratto Si vado con migliori da qualcheità o bicicletta o the private Se tu vuoi dare E' stato più veloce E' stato più veloce se la stessa roba sono nara su transfer mart ma lo si dice un attimo perché io la faccio non lo so non lo so però si parla bene dove transfer mart ecco qua tra quanto vale il giocatore però vale 3 milioni di euro 4 milioni di euro ha fatto quest'anno con lo stand non so quanto a parlare però non è male come giocatore come sostituibile basta quindi è nato in serbia nel 92 ha 24 anni il prossimo ottobre e alto 1,80 quindi la squadra attuale lo stand cioè se il giocatore se ne parla bene perchè se no la Lazio non lo rende io spero che tuttavia anche il giocatore ma la Lazio mi riflesso domani i vieti medi il giocatore ha fatto i assist SMD fascia destra quindi a vari ruoli e speriamo di lanci con tanta persona acquisto del Rostov vediamo qua roba che era fa 10 12 minuti ma la Lazio era fa 10 quindi per breve e così va il secondo gruppo della Lazio che si chiama questo gruppo italiano AMSUN 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 un passo dalla Lazio allora vi dire qua l'importante c'è due perchè te ne avete contatti con il da meno di settimane c'è ognuno questa cosa è da 12 milioni di euro la c'è da nessuno più 10 la differenza è minima e d'accordo con il vieto d'angolo AMSUN è classe 95 si vede anche da un interesse alla mezza Europa io diverto su tutti e di ricordare di San Antonio la Champions legna e anche Europa League il contatto 14 2018 l'ananza c'è l'apice l'opera la oddio con un sacco 13 con l'ananza il contorno con il quaderno e il presto anche l'asso l'uso l'asso qui sono a Lazio, unici like, treci like, per ragazzi, questo Lazio sempre. Il giocatore andrà alle otto tra le serie mediche, perché era stasera da qualche era a Fiumicino, andrà a trovare le serie mediche per non tirare i padeghi e poi andrà a finire il contratto in quinnale, trova Lazio a Formello per fare il contratto e tutto è tutto a posto. E quindi è questo proprio acquisto che è un giocatore che è un giocatore. E poi se il secondo ha un solo, perché è un passo d'altra, se spiega anche questa operazione dei produttori iraniani che ha su di tutti quest'anno sincera posizione di una qualità che è con Rostov. Il calcio pericato, l'avvento si pensa a Meninco, ma invece la Lazio non vuole 70 migliori, quindi non c'è niente di strano. Anzi, Meninco ci può vedere tutto la Lazio. Quindi Amazon ha fatto 12 gol, il modello suo è Braimovic. Difficile anche parla di ragionarlo a questo modello del 2 player, ma è che fare c'è il ruvenici iraniano. Quindi il mio modello è gioco iraniano e mi ha tentato di giocare come lui. Allora, ecco perché non è un caso che su due hanno messo gli 8 e mezzo Europa, Liverpool e Larsen in particolare, quindi non è una vipa, sono secondo me. E tre squadre dell'imperazione c'è anche la Lazio. La Lazio è un certo nuovo gol per questo genere, si è messo in anticipo rispetto agli altri e si può andare a fare un'attività di torre a concorrenza. Allora c'è altri rapporti con il padre di Gentile Jamsun e l'ex Bolognese K a Lilli. Con le prezze di come film implicate erano ogni tanto per le potezioni alti rosso ed è un'altra cosa di farvi un calzane rosso. Se li potete dire con 10 milioni di euro potete non mi chiedere un grosso, un malmischiazio, un malmischiazio, un malmischiazio, un malmischiazio quindi ragazzi, in questo video mi ricordo da Lazio, ricerci like e ragazzi si possono spiegare. Ciao!